Noi siamo essenzialmente un'azienda di persone, fatta da persone, dove le persone sono la cosa più importante. Cerchiamo persone con tanta esperienza commerciale, con poca esperienza commerciale, da introdurre all'interno dell'azienda come venditori. Ho conosciuto Berenson tramite un'agenzia eterinale per il lavoro e lavoro con il gruppo Berenson da circa un anno e mezzo. La nostra organizzazione di vendita è basata su una struttura abbastanza semplice, abbastanza lineare, che dà la possibilità di crescere alle persone. Sicuramente se cercate un'azienda solida con cui crescere, questa è l'azienda giusta. Grazie.